Aldo, abbiamo altre specialità della casa, ma cosa stai portando di buono? Questi sono spaghetti con frutti di mare, una scogliera la chiamiamo, ma io più che spaghetti con frutti di mare chiamerei frutti di mare con spaghetti, sono più frutti di mare che gli spaghetti, guardate qua. Ma una vera delizia! Cozze, vongole e gambri, tutti freschi, pomodorino e un po' di aromi. Una specialità da gustare qui a Castel di Tusa? Certo, qui venite anche su Antecotta Marina, troverete buon pesce, buon pesce fresco, questi ottimi piatti a base di frutti di mare, di crostacei, questo è un nostro cavallo di battaglia la scogliera, un bellissimo primo. Allora non resta altro che augurare tutti anche un buon 2024? Certo, buon anno, che sia veramente un anno più sereno e di tanti auguri e vi raccomando sempre di gustare dei buoni piatti a base di pesce, anche in queste festività. Allora non resta altro che servirli. Certo. Amici allora fateci sapere da dove ci seguite e a tutti voi naturalmente i migliori auguri di buon anno. Ci sono pure gli spaghetti in questo piatto, ci sono pure gli spaghetti, guardate qua, una delizia, ciao ciao.